ciao ragazzi belli noi stiamo facendo passeggiata domenicale abbiamo già fatto secondo me due chilometri che siamo arrivati la in paese che c'è un parchetto adesso stiamo tornando a casa salta come vabbè mi tocca saltare anche a me qui eccoci salta come un capretto stancabile angelino di chi è angelino ciao salutiamo vieni angelino 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 vabbè siamo in passeggiata ehi scusi scusi lei angelino dai vieni un po qua da me ciao saluta tutto bene stiamo bene e complimenti sempre per tutto per l'ottimo lavoro e vi siamo sempre vicini a qualsiasi tipo d'aiuto insomma vi seguiamo e vi abbracciamo forte ciao buona domenica